Dovrebbe entrare in funzione entro dicembre del 2022 la metropolitana leggera che collegherà Matrice a Boiano con le fermate intermedie a Campobasso, Vinchiaturo, Guardia Regge e San Polo Matese, un'opera di cui si parlava già nel 2003 ma che sotto il governo Frattura ha avuto la spinta per partire. Costo del primo lotto 23 milioni di euro, oltre a 500 mila euro per la progettazione. Un tredino, così come è stato ribattezzato, che nel primo lotto del tracciato percorrerà 41 chilometri con una corsa ogni mezz'ora. Il secondo lotto prevede il collegamento fino a Disernia. Il percorso si snoderà sull'attuale tracciato ferroviario Termoli-Campobasso-Roma. Intanto nel capoluogo i lavori per la realizzazione delle fermate sono pressoché terminati. Tre quelle di Campobasso, stazione ferroviaria e via Monte San Michele, vicino alla mensa Caritas, la Casa degli Angeli e via Duca d'Aosta. Queste immagini si riferiscono alla fermata di via Monte San Michele che affaccia su via delle Frasche. Pavimentazione, pensilina, i lavori sembrano essere terminati ma è chiaro che prima che il servizio possa partire sarà necessario attendere l'ultima azione delle altre fermate fino a Boiano dove dovrà essere ristrutturata la stazione. Poi sarà la volta dell'elettrificazione dell'intero tracciato che, secondo le stime della regione, dovrebbe partire nei prossimi mesi. E mentre i lavori vanno avanti, in tanti continuano a chiedersi se l'opera sia realmente utile ad una regione, le prese con gravissimi problemi alla viabilità, strade dissestate, pericolose e collegamenti ferroviari da terzo mondo.